quel miagolio insistente e impaurito non poteva finire inascoltato e così grazie alla sensibilità e all'interessamento di una famiglia un gattino è stato sottratto ad un destino purtroppo già segnato è successo nella mattinata di martedì quando alcuni residenti di via pavarazzi a 90 hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco per soccorrere un gattino finito all'interno di uno scarico pluviale i pompieri dopo aver ascoltato e individuato il miagolio hanno scovato uno scarico vicino l'antigua autostrada dove la piccola bestiola si era infilata un vigile del fuoco si è calato all'interno del pozzetto in parte invaso dall'acqua riuscendo a visualizzare il felino sulle prime un po di fidente è stato recuperato con alcuni stratagemmi il micetto è stato affidato ad un'infermiera veterinaria di un vicino centro medico per animali ed è apparso subito in buone condizioni